Bilancio positivo per l'area parcheggi di Villa Marina secondo l'assessore all'operatività Enzo Belloni, un progetto che insieme alla pedonalizzazione di Viale Trieste ha rivoluzionato il modo di vivere il lungomare pesarese nell'ultima stagione estiva. L'intenzione è di verificare nelle prossime settimane la possibilità di acquisto dell'area per confermare anche nell'estate 2021 la pedonalizzazione del viale e i posti gratuiti nella zona attualmente di proprietà dell'Inps. Devo dire che è stata un'intuizione molto felice quella di chiedere ad Inps di utilizzare quell'area di smessa come parcheggio. Adesso il nostro obiettivo è mantenere l'isola pedonale in Viale Trieste, magari modularla secondo quelle che possono essere le criticità emerse in questa sperimentazione, anche se oggettivamente devo dire che è andata molto bene e a parte ovviamente qualche malcontento il grosso di pesarese, insomma apprezzato. È chiaro che nell'obiettivo del Sindaco della Giunta c'è quello di fare un approfondimento serio sulla possibilità di acquisire dall'Inps le aree di Villa Marina, sia quella ex sportiva con i campi all'aperto che l'altra area con la palazzina e dovremo lavorare assieme ad Aspes per una soluzione condivisa che possa interessare sia l'esigenza di Aspes che quella del Comune. Io penso che nel giro di un paio di mesi prenderemo una decisione anche perché poi diventa strategico per fare le valutazioni necessarie per quello che sarà il nostro lungomare già della prossima stagione. L'area di Villa Marina ha permesso all'amministrazione comunale di eliminare 60 posti auto da Viale Trieste. I parcheggi diventati a pagamento e situati nelle vie traverse e parallele del Viale rimarranno attualmente blu, come richiesto da diversi residenti. Per ora restano blu, poi una valutazione che andremo a fare da qui a qualche settimana. I residenti hanno facilità di parcheggio, ora con l'abbonamento di 25 euro per due anni. Volevo solamente sottolineare che alcuni punti della città ci stanno pressando con richieste a raccolto firme per mettere le strisce blu, non perché vogliono che il Comune faccia cassa, ma perché con le strisce blu per i residenti è più facile trovare un parcheggio. L'obiettivo dell'amministrazione qual è però? è quello di realizzare ulteriori parcheggi bianchi al di là della ferrovia e quando uno è a ridosso del centro, ovviamente come succede in tutte le città d'Italia, i parcheggi diventano a pagamento. Noi contiamo tra il giugno e l'ottobre 2021 avere pronto il parcheggio del San Decencio, l'allargamento, l'ex FME, come la chiamiamo, che sarà un parcheggio strategico sia per il mercato che per il centro storico. Novità anche sul nuovo parcheggio di Baia Flaminia. L'inaugurazione è vicina, ma si attende la realizzazione di una rotonda lungo Foglia delle Nazioni, che assicurerà l'ingresso e l'uscita dal parcheggio in sicurezza. Abbiamo deciso di fare la rotatoria subito, di partire prima possibile con la rotatoria, così che evitiamo magari il pericolo di incidenti, anche se adesso il traffico è decisamente ridotto rispetto a quest'estate, però visto che abbiamo fatto il lavoro, lo completiamo, aspettiamo un paio di settimane e completiamo anche quell'intervento lì.